benvenuti in un nuovo video come avete letto al titolo oggi faremo insieme lo spacchettamento prozis scusatemi se vedete un'ombra qua ma tengo la luce così da far vedere bene i prodotti anzi mi avvicino un poco quindi io inizio subito mi è arrivato mi è appena arrivato un pacchetto prozis eccolo qui il mio pacchettino prozis apriamolo subito allora non vedevo veramente l'ora che arrivasse mi servivano un paio di prodotti eccoci qua intravedo qualcosa foglio e foglio bolla fattura o mio dio iniziamo subito allora metto il pacco qui sul tavolo allora la prima cosa che vedo allora voi starete bene sicuramente tutti i prezzi sono troppo contenta perché non vedo veramente l'ora ho ordinato questo qui mi ispirava tantissimo però io non mi ricordo di averlo preso dalla cannella vabbè comunque questo qui è un biscottino da 16 16 grammi di proteine ed è la confezione da 113 grammi cioè raga bellissimo poi 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 questo è l'omaggio sì questo qui è è l'omaggino poi vi scrivo se qualcosa è l'omaggino perché veramente non mi ricordo il fatto che volevo dire quattro giorni fa quindi giulia sta cosa è grave comunque queste qui sono le proteine questa cosa mi sbaglio è vaniglia sì sì io dico queste qui mi sono trovate da dio infatti la vedete presto o forse lo vedete nel video prodotti finiti e questo qui sono delle proteine alla vaniglia poi ho acquistato dei bravi mai preso questo qui gusto cioccolato bianco e gelato non lo so comunque è un biscottino da 60 grammi è questo qui poi vi faccio sapere del prossimo prodotti finiti poi trovo qui io i miei integratori perché ho deciso di integrare anche queste cose sono dei semplicissimi integratori questo qui sono multi PRZ non so come si pronuncia non allora io un ragazzo li ha consigliati perché vedendo un po' nel suo video già volevo prenderli perché comunque facendo sport per non sentirmi pure debole comunque sono mi sbaglio questi questo sono vitamine semplici vitamine che fanno bene a tutti queste qui è la vitamina c io queste qui vitamina c e rose hippo oddio non mi arriva la mano rose hippo e questi qui sono gli omega 3 ho spiegato dei merluzzo e quindi io le ho volute prendere se volete se volete saperne di più andate sul sito e ci sta tutta la descrizione e tutto e quindi eccoli qui io che poi c'è ma vogliamo parlare del pecc parliamone poi 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 finalmente fi dico finalmente perché non vedevo l'ora questa qua xan tan boom comunque la questa qui è la gomma quella per fare addensare le cose non so come si pronuncia questa qui è perché io seguo una ragazza su instagram che non mi ricordo come si chiama scusami e comunque fa un milk fluffy una cosa del genere fenomenale infatti seguitemi su instagram ma perché la farò e la taggerò è questo qui io e quindi le utilizza questo e l'ho voluto prendere perché voglio fare un po di cose proteiche serve comunque questo qua anche per fare il budino e quindi ho comprato il protein milk questo qui è la alla vaniglia sempre marchio prozis 330 ml e quindi ho preso una alla vaniglia volevo prendere anche fragola però fragola ho detto poi sei un po chimico allora sono andata di vaniglia e poi ho preso anche questo qui della protis zero shake chocolate eccolo qui ho questo qui ho 256 grammi eccolo qui e quindi non vedo l'ora poi 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 questo qui me lo ricordo è un omaggio è un peanut butter eccolo qua 250 grammi cioccolato bianco e resins quindi non troverai comunque è il burro d'arachidi marchio prozis 250 grammi li ho presi con i punti e quindi devo dire la verità a me per questo piace prozis perché comunque accumulando i punti cioè uno può prendere anche un burro d'arachidi quindi veramente su questo è fenomenale e quindi eccolo qui così poi lo proverò e sicuramente mi piacerà perché il burro d'arachidi è sacro quindi proprio questo qua così ed è questo qui poi abbiamo parlato delle confezioni rosse io già impazzisco per il rosso quindi so poi 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 ho acquistato una farina Hotmail questo qua sempre della prozis più whey protein chocolate brownie eccola qui allora uno il packaging cioè voi vedete una bustina del genere ma poi costano poco costano poco il sorfero e i nali questo qui è 400 grammi e ci sono veramente tantissimi gusti poi dietro vi spiega che potete fare i muffin i biscotti il pane il shaker il porridge todos 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 e quindi eccolo qui veramente ottimi quindi consigliatissimo io non so più dove mettere le cose ecco il mostro queste qui ho ordinate delle real whey 100% whey protein sono proteine in polvere eccolo qui questo qui è gusto cioccolato si se non mi sbaglio ed è da un chilo questo ehm ho voluto prendere da un chilo perché sinceramente quello da 400 grammi economicamente non conveniva conveniva con un euro in più devo prendere questo qua da un chilo infatti io comunque lo utilizzo ho preso un gusto cioccolato ed è eccolo qui ed è un chilo questo qui è un protein whey adoro per i miei pre workout oppure post workout e quindi proteine in polvere per tutta la vita ho preso una barretta questa qui della produce zero snack double chocolate perché questa qui mi è piaciuta tantissimo e l'ho riacquistata come vi dicevo prima ho acquistato il protein milk a cioccolato eccolo qui cioccolato e vaniglia quindi devo provarlo assolutissimamente e nulla questo è all'ordine io vi saluto con gli shaker questo è stato l'ordine io spero che vi sia piaciuto anche se molto breve ma io sono così troppe soffermarmi troppo sulle stesse cose per me diventa scocciante quindi evito io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao